Saluti a tutti, Dio vi benedica, ricevete un forte abbraccio. L'insegnamento di oggi riguarda che noi dobbiamo avere identità spirituale. Cosa significa questo? Quando uno ha identità spirituale è perché lo caratterizza qualcosa che lo fa diverso e distinto di fronte alle altre persone e agli esseri umani. Per questo quanto è importante avere l'identità spirituale. Per avere questa identità spirituale qualcosa che ci identifica e ci caratterizza è che siamo diversi, che siamo questi veri cristiani. E allora partiamo dal libro di Esodo, riguarda la lettura dei Dieci Comandamenti, capitolo numero 20, verso 3. Diceva Dio a Mosè nel monte Sinai, diceva qualcosa che deve caratterizzare qualcuno a un vero cristiano. E avere chiaro, per esempio questo comandamento, non avrai altri Dei davanti a me. E nel verso 4 non ti farai sculture. Sculture alcune, né immagini, alcune delle cose che sono lassù, nei ceni, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. No alle immagini, no all'idolatria, no a Dei diversi, a credenze. Per questo, per avere un'identità spirituale, dobbiamo avere la convinzione che Dio è spirito, che Dio è una realtà, che Dio sì esiste. Però sappiamo che il nemico si è occupato di distrarre l'umanità, che non cerchino veramente questo Dio che narra la Bibbia. Per esempio, per avere questa identità spirituale, se andiamo nel libro di Seconda dei Re, Secondo Libro dei Re, capitolo numero 21, abbiamo un esempio chiaro di come queste norme, le prime regole, i primi statuti che impariamo riguardo l'idolatria. Per questo vi invito a leggere la Bibbia. leggiamo qui nel Secondo Libro dei Re, capitolo 21, Ezechia, dove questo re Ezechia ha voluto compiacere il Signore e ha fatto togliere tutti i dèi fatti da mani d'uomo. E lui ha purificato, però quando muore, rimane il figlio Manasse. E se vediamo nel verso 2, la prima frase dice che Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, secondo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. E Dio aveva tolto tutti questi popoli intorno, popoli pieni di idolatria, li aveva tolte il Signore. Però lui cosa aveva fatto? Nel verso 3, Egli ricostruì gli altri luoghi che Ezechia, suo padre, aveva distrutto. Eresse altari a Baal, fece una shera, come aveva fatto Aqab, re di Israele. Tutto questo significava che questo Manasse non aveva questa identità spirituale come figlio di Dio. Però cosa deve identificare? E cosa deve rifiutare un figlio di Dio perché abbia veramente questa identità spirituale? Verso 6 dice, fece anche passare per il fuoco il suo figlio. Come facevano queste nazioni pagane che sacrificavano i figli davanti a questi dei. E praticò divinazioni, usò incantesimi. E quando uno vuole essere un cristiano diverso dal mondo, allora toglie tutto questo. E non pratica divinazione, non fa incantesimi. E dice, consultò i medium e i maghi, a ricorso a questa divinazione, l'oroscopo che leggano i tarocchi. Perché? Perché ha una identità spirituale che lo fa diverso dagli altri. E dice qui che si diede interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo a dire a Dio. E per questo Dio lo castiga. Castiga l'individuo quando non ha questa identità spirituale definita, quando veramente la persona non vuole rendersi a Dio. E dice la Bibbia. E guardiamo la raccomandazione per avere questa identità spirituale. Se andiamo nel libro, nel primo libro di Pietro, capitolo numero 1, nel verso 13, dice così, nella prima epistola di Pietro, capitolo numero 1, verso 13, perciò avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà condotta nella rivelazione di Gesù Cristo. Dobbiamo cingere i lombi, significa cattare l'Evangelo, la dottrina per voler compiacere il Signore, per voler veramente essere figli di Dio, per avere questa identità spirituale definita, che dicano questo uomo, questa donna è diverso. Perché? Perché ha un'identità spirituale, perché secondo il suo intendimento ha imparato ad essere sobrio, moderato, nulla di fanatismo, non andare alle esagerazioni, però se io ho una vita moderata, sobria, con la volontà di essere facitore della parola del Signore, quando uno ha questo nel suo cuore e nella sua mente, ha questa identità spirituale definita. E verso 14 dice, come figli obbedienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Molti di noi non conoscevamo Dio, non conoscevamo l'Evangelo, non conoscevamo questa verità, non conoscevamo che Dio veramente è spirito e verità, e per questo eravamo ignoranti riguardo Dio. Quanti di noi non avevamo aperto mai una Bibbia, però uno ha l'opportunità di conoscere Dio vivo e oggi comprendiamo che Dio vive, che Dio esiste, che Dio è una realtà, che Dio è spirito e verità, e per questo continuo ad insegnarci qui per avere questa vera identità spirituale, quello che ci caratterizza e ci fa diversi dagli altri esseri umani. E per questo nel verso 15, ma come colui che vi ha chiamati è santo, lui è santo, voi pure siate santi, dobbiamo appartarci, allontanarci per il Signore. Quando uno si allontana dal mondo, dal peccato, è perché sta avendo un'identità spirituale per poter compiacere il Signore. In ogni modo, in ogni modo, in ogni forma di vivere, noi dobbiamo pensare come veramente compiacere Dio, essere figli e figli di Dio, perché se Lui è santo e noi vogliamo essere figli di Dio, dobbiamo essere santi e allontanarci dal peccato. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, verso 1, deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza. Guardate quello che dobbiamo fare quando abbiamo una identità spirituale, quando veramente vogliamo compiacere il Signore, dobbiamo dare questa buona testimonianza. testimonianza. Perché uno dà questa buona testimonianza? Perché rifiuta le maldicenze, le ipocrisie, le invidie? Perché Dio inizia a dimorare nel cuore il credente, accetta che Dio veramente è spirito e verità e vuole essere un figlio di Dio. Per questo vuole avere un buon modo di vivere, per questo lascia l'idolatria. Perché? Perché sta acquisendo identità spirituale, perché vuole con piacere il Signore. Per questo dice nel verso 2, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. E questa è l'idea, l'idea che quanto più abbiamo questa identità spirituale e andiamo acquistando e imparando a conoscere il cammino di Dio come questo puro latte della parola, questa dottrina pura. Per questo vi invitiamo a leggere la Bibbia. Che libro vi raccomandiamo? La Bibbia. Che altro libro? La Bibbia. Lì questa parola scritta di Dio. L'umanità cerca scritti di uomini riguardo teoria e fa che la sua mente, la sua conoscenza riguardo Dio si devi e come non ci sono fermezza e convenzione. Allora si perde l'identità spirituale e dà spazio ad altri pensieri. E questo non piace al Signore perché la persona che ha identità spirituale ha la convenzione, ha la certezza che Dio vive, che Dio si manifesta nella chiesa di Dio ministeriale di Gesù Cristo internazionale, che Dio si parla, che Dio si dà sogni, visioni, che Dio è una realtà. Però questo lo raggiungono nella mente e nel cuore coloro che hanno questa identità spirituale. Dice nella prima lettera di Giovanni, capitolo numero tre verso nove, chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. È chiaro, ha conosciuto Dio, si è innamorato di Dio, si è fatto conquistare da Dio. Allora cosa fa Dio nella mente e nel cuore di una persona che ha la convinzione, che ha l'identità spirituale, che già Dio comincia a dimorare nel suo cuore, che dà buona testimonianza? E allora non pecca, non pecca perché la sua identità spirituale, voler compiacere Dio, fa che si sforza, che lotta per essere un figlio o una figlia di Dio. Dice anche, andiamo all'Evangelo di Luca, l'Evangelo di Luca, capitolo numero dodici, l'Evangelo di Luca, capitolo numero dodici, capitolo numero dodici, nel verso numero otto. L'Evangelo di Luca, capitolo numero dodici, verso otto. Dice così la parola del Signore. perché nella misura in cui noi abbiamo questa identità spirituale, questa convinzione del Signore, dice qui nel verso otto, ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo, nostro Signore Gesù Cristo, lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Cosa vuol dire questo? Che quando uno ha l'identità spirituale, quando uno si considera veramente un figlio o una figlia di Dio, quando uno sa di fronte a chi sta, e allora noi non ci vergogniamo di questa identità spirituale. Non ci vergogniamo che ci dicano, lì c'è un cristiano, e non sentiamo vergogna. parlare di Cristo, parlare di Dio, parlare della Chiesa. Però quando lo faccio, quando ho questa identità spirituale, quando veramente sono convinto che Dio vive, che Dio esiste, e che Dio mi ha parlato in sogno, in visione, in profezia, e allora la mia identità spirituale è definita, e questo fa che mi caratterizzi, che sia diverso dagli altri esseri umani, perché mi sono convertito in un figlio di Dio, e per questo lo cerco, per questo lo cerco, di giorno, di notte, voglio lodarlo, voglio ingrandirlo, mi preoccupo per come mi vesto, per come parlo, per avere questa fiducia, questa speranza che andrò avanti nella mia vita. Però tutto questo me lo dà questa identità spirituale, questa convenzione che Dio esiste e che Dio si manifesta nella sua Chiesa, benedetto il nome del Signore. Che la gloria sia per il Signore. Per questo, fratelli, non vergognatevi quando vi chiedono perché sei diverso, perché sei felice, perché sei contento sempre, tanta speranza, perché sei positivo. E che ho un Dio che vive, che mi parla, che mi guida, questo Dio di speranza, questo Dio che mi domina, che domina la mia mente, che domina il mio corpo per compiacerlo, e per questo dobbiamo avere identità spirituale. Sì, si può, fratelli, sì, si può. Sì, avremo questa identità, questa fermezza, questa convinzione, questa identità spirituale che voi e Dio siamo speciali, siamo i figli di Dio, benedetto il nome del Signore. Adesso preghiamo, fratelli, e diciamogli, il Signore della gloria, Padre buono, grande e potente sei Tu, grande e meraviglioso sei Tu, Signore. Che tutta la gloria sia per te. Estendi la tua mano su tutti quelli che stanno ascoltando quest'audio, benedicili, guariscili, liberali, benedicili le famiglie. Sono tanti conflitti nei matrimoni, che ci sia più pazienza, più comprensione, e che questa identità spirituale siamo tolleranti gli uni con gli altri. Aiutaci nella parte economica, guarda i debiti, gli impegni che ci sono. Chi sia Tu, aprendo porte a chi non ha impiego, ad essere buoni amministratori del poco, tanto denaro che passa nelle nostre mani spiritualmente, Signore. Io so che dopo questa meditazione, questo insegnamento, tanti loderanno il Signore, dagli esperienze meravigliose. E manifestati, battezza, riempiti di te. Ti chiedo per la nostra sorella Maria Luisa, perché tu la benedica e la riempi della tua grazia, del tuo potere e del tuo sostegno, che sempre darle la salute e il vigore che le vediamo e che sempre siamo imitatori di questo buon esempio, come è la nostra leader a livello mondiale, la nostra sorella Maria Luisa. Che Dio vi benedica, che Dio vi protegga e che Dio ad ognuno di noi ci dia questo potere, questa intelligenza, questo senno, che dobbiamo avere questa identità spirituale ed averla ben definita. Presto, fratelli, Dio vi benedica.